Ciao a tutti, io sono Aurora, e con noi c'è anche Gaia, Greta e Zahira. Ciao ragazze! Ragazze, ma lo sapete che oggi è un giorno molto speciale? Perché trascorrerete 24 ore su uno yacht bellissimo! Andiamo, andiamo, andiamola a vedere! Via! Andiamo! Di qua, di qua, di qua! Ragazze, andate sul pontile, sempre dritto! No ragazzi, questa è una prova molto... No, no, aspetta! Guardate che cosa stava! No, paura! Qua cadiamo, qua cadiamo, ve lo dico. Piano! Zahira! Hai paura, amore? Tranquillo! Ragazze, ma dove andate che non sapete manco che barca è? Eh, vabbè, dobbiamo andare... Ci portali! Va bene, su, su, dai, dai! Andiamo! Ragazze! Non vedo l'ora! È bellissimo! Aurora! Ma... Saliamo? Gaia, Zahira, dove siete? Vai Ludo! Vai Ludo! Vai Ludo! Vai Greta! Aurora! Ragazze, state scendendo? No mamma, io ce l'ho... Ragazzi, io sono già qua! Ragazze, siete pronte per partire? Sì! Avete posizionato già le asciucamani? Sì! Andiamo allora? Sì! Oddio! Ma già si muove così! Eh, è vero, già si muove! Oh, aiuto! No, ragazze! È troppo bella! Ragazze, la barca si sta muovendo! Sì, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, male! Ludo! Ti piace Ludo? È la prima volta in barca! Allora, è la prima volta che Ludovica va in barca, vero Luli? Sì! Sei emozionata? Guardate! Guarda ragazzi, ragazze! Ah, struta! Oddio! Oh! Papà! Sì, parte! Allora, ragazzi, stiamo andando a Procida! Vi faremo vedere Procida dal mare, che è fatta di tante casette tutte colorate! Vi faremo vedere quanto è bella! Intanto stiamo lasciando il porto! Ciao, porto! Ciao, porto! Ah, e forse ragazzi, se avremo al coraggio ci punteremo! No, no, cosa? Poi dopo dovrete fare dei tuffi! No! Io l'ho fatto! La gara dei tuffi dopo! Guardate il mare! Io so nuotare! Sai nuotare? Io so nuotare! Anche io! Anche io! Anche io sono l'olio sapatette! È troppo bella! Dopo andiamo tutti a frua, eh! Sì! Ragazze, io vedo che la barca sta un po' muovendosi! Tantissimo, in verità! Non poco, ma tanto! Ragazzi, ho l'olio! Ti manda e si apriva delle gocce qua! Eh, ci facciamo il bagno! Io me lo voglio fare qui! Abbiamo lasciato il porto! Abbiamo lasciato il porto! Qui c'è lo skipper che sta guidando! Gianni, avete paura? Qui c'è Gianni che ci porterà sicuro dritto dentro uno skoglio Ha preso le redini della barca Giannino Quindi ragazze, c'è da preoccuparsi, eh! Li porterò a destinazione! Sono pronti per partire, vado? Vai Luca, pronti! No, perché non è! Non abbiamo già partito! Andiamo! Allora, non eravamo già partiti prima! Adesso ha accelerato, eh! No! Che bello! No! Che bello! Ragazze! Che bello! Ludo! Ludo! Com'è? Uuuuh! Ragazze! No, no, no! Ti faccio le fare con voi! Luli! Ti piace? Anche a me! Non, no! E' un po' di paura? ragazzi siamo arrivati a procida guardate qui quante case colorate bellissime adesso ci fermeremo e faremo un bel tuffo guardate che bello state facendo il primo spuntino patatine come sono papi viene a prendere a ludo ludo di aspetta allora siete pronte sì o no a tuffarvi dai su su fifone io sto tremando veramente dai a tre vado vai gaia 1 2 3 via auri tocca a te auri bravi ludo amore ti piace mamma aurora facciamo il tuffo insieme fate un tuffa bomba tu e gaia insieme sentate venete vogliamo un tuffo 3 3 2 1 ludo ludo mica non si vede in questa pagina guarda mamma mia com'è fredda tuffo a bomba dai al mio 3 tuffo a bomba a candela e vai 3 2 1 uuuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh uuuuuh Ludo, dove vai tu, Lulù, vieni qui, vedo tante sirenette qui, Ludo, mi sembrate proprio delle sirenette, vogliamo mangiare, che dite? Anzi, facciamo prima un bel brindisi e salite su, buonasera signori e signori, oggi qui a Procida canterò Luca ragazzi di H7, insomma ricolterò, ma andiamo. Luca, 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 Aurora, qui ci sono delle sirenette che prendono il sole, Ludo dormi? Che bellezza è al bagno! Andiamo a mangiare! Ciao! Ciao! Ragazze, guardate Luca cosa vi ha portato! Che buono! Buonissimo! Oh! Che buono! Mamma mia, cosa sono queste? Polpettine di melanzane! Che squisitezza! Dai, mangiate ragazze! I piattini dove stanno? Adesso... Che delizia! E io le voglio anch'io eh! Sì, sì, sì! Mi dispiace! Com'è? Buona! Sono buone? Sto spettando sul microfono. Noii... Mh! Luca le mani tutti. Questa volta le fermo con la maschera. Ludo ti piace a mamma, Procida? Sì! Sì? Oh, ma sei affamata, Ludo! Mi sa che il mare ti porta fame a te perchè tu non mangi mai niente. ragazze guardate che bello aperitivo che abbiamo qui chi è che stappa la bottiglia dopo io ragazze che state facendo voi vi siete rubate le pizze no sentite ma vogliamo spiare a quelle lì che stanno in camera aspettate aspettate le dobbiamo spiare stanno in camera loro vediamo alza alza gaya ragazze dove stanno non ci stanno dove sono ma dove sono andato eccole vi volevamo spiare dove siete finite ludovica dov'è amore dove eravate finite volete venire qui a prendere il sole pure tu ma stavate dormendo vediamo come dormite in questa stanza stavate facendo il riposino vediamo che bellina quelle bimbe ragazzi io me ne vado perché qua sta mangiando si è rubata la pizza ciao ragazzi ciao guys abbiamo rubato le pizze di là avete rubato le pizze ma non si può venire qui ragazzi avete visto procida eccola qui guardate che carina andate di là perché sennò quelle tre vogliono venire di qua lei è la zia mary la mamma di zahira eccola qui ciao a tutti unicornine ragazzi adesso mi sento qui e non mi muovo più per tutta 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 la giornata ragazze ma ci avete fatto caso che siamo tutte donne tu vai a mare siediti polpetta siediti polpettona nostra stai seduta allora chi devo no 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 sedute o ma lulu balla stai facendo correre tutti i pesciolini di procida qui guardate lì come mangiano luli ragazze siete pronte per stappare una bella bottiglia dai stappate questa bottiglia uno due tre via ragazze ma sapete che questa non è per voi è per noi genitori voi dovete bere la coca cola al massimo però la frutta la potete mangiare preghe mangiate pure ragazze zahira tu la pizza non la vuoi la frutta vediamo questa frutta che buona che è questa frutta allora ci sono l'angurie poi la pesca le olive le ciliegine e la banana wow stai mangiando tu signorina cosa mangi tu queste qua io mangio queste ah le ciliegine e l'uva mmm che buona questa frutta ragazzi facciamo questo brindisi wow auguri brindisi wow via aia ma che tuffo era questo ma tu ma sei cazzo stiamo da mangiare i pesci guardate frutta e ceci oh andiamo stiamo da mangiare i pesci stiamo stiamo da mangiare i pesci guardate frutta e ceci vai è il momento di cantare noi siamo in barca qui a sognare tutti spiegi a lamentarsi che fa molto molto caldo e noi siamo in mezzo al mare pronti pronti a nuotare è il momento di divertirti abbiamo da mangiare anche i pesci è il momento di ballare scatenarci e anche dopo un prosecchino ci facciamo il bagnino abbiamo anche la ciambella tutti insieme a ballare tutti insieme a nuotare e noi siamo in barca a sognare mentre gli altri sono in spiaggia a ballare a me ci piace molto divertirci e noi siamo qui un applauso a Jenny un applauso a Jenny via io voglio quello lì no 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 voglio questo qui no 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 voglio questo qui dobbiamo finire tutti noi voglio quello allora Dudo non me ne dai un poco a me no un poco a poco no pochino pochino pizzolo pizzolo tu già sei qui tu pepe 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 pepeina na 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 che state facendo ragazze vi state rilassando poi compro ci da qui che fa da sfondo e bellissima vero? Stanno combinando quelli lì di là? Stanno mangiando, giocando. Ludo! C'è Ludo lì! Luli! Ciao! Luli! Dov'è Auri? Vai ragazzi, si parte e si ritorna a casa. Allora, qua ragazzi, dove siamo messe noi un po' salta, diciamo, quindi ci ritroviamo a terra, credo. Allora, dammi la mano. Guardate quella grotta! Ludo, ti piace il mare? Guarda! Ti piace, amore? Guarda! Cuestto conseguito! Guarda! Moda non ci CHUNO in fredda! Guarda! Guarda le foto, guarda le foto, guarda le foto e fredda! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!